E' stata inaugurata all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale a Torino la mostra fotografica Rafat, sguardo dai campi profughi del Somaliland, organizzata dal Consiglio regionale e curata da Suad Omar e Davide Rigallo. Il lavoro è frutto di una serie di missioni condotte a Ergeisa e Berber all'interno del programma Mila Somalia. Nel corso della presentazione alcune letture significative a cura di Vesna Scepanovic e Ikram Mohamed. La mostra, gratuita, è esposta fino al 20 aprile. La mostra Rafat, che in lingua somala significa sofferenza, raccoglie la documentazione fotografica fatta da Suad Omar in alcune missioni per conto dell'agenzia IOM nel campi profughi del Somaliland, in particolare Ergeisa e Rafat e documenta l'esperienza migratoria dei profughi negli IDP del nord della Somalia.